Musica Ben trovati con il TG10, apertura del telegiornale che dedichiamo all'atavico problema che interessa il porto rifugio del porto Isola di Gela. Chiesta l'immediata convocazione di un tavolo prefettizio da parte del capogruppo consigliare del Partito Democratico Enzo Cirignotta. Vediamo il servizio. Il tempo passa inesorbilmente e gli operatori portuali di Gela assistono ogni giorno all'insabbiamento della struttura. Tante le promesse, ma la situazione non cambia. Anzi, adesso il capogruppo consigliare del Partito Democratico Enzo Cirignotta a chiedere interventi immediati e concreti. L'esponente politico ha sollecitato la convocazione di un incontro prefettizio in merito proprio alla situazione del porto Isola e del porto Rifugio. Del caso è stato investito il sindaco Domenico Messinese. L'annoso insabbiamento del porto Rifugio, dice Cirignotta, limita la navigazione in atanti sia da di porto che di sicurezza a supporto del sito industriale e delle piattaforme presenti nel Golfo Gelese e ha ridotto notevolmente il pescaggio. Il maltempo dei giorni scorsi ha oltremmeno peggiorato una situazione già ampiamente compromessa. Non diversa è la situazione per quanto riguarda il porto Isola. Di recente, il comandante della Capitaneria di Porto, accertando lo stato di degrado delle strutture e dei manufatti del pontile del porto Isola, ha emesso una ordinanza che vieta il transito nell'area del pontile e delle pontilette, invitando la società raffineria di Gela ad adottare misure di protezione al fine di garantire l'incolumità delle persone. L'unica speranza, dice Cirignotta, è che non succeda nulla di serio a mare perché la situazione potrebbe precipitare, in quanto i mezzi antincendio non possono più uscire dal porto. I mezzi antinquinamento, i barcaioli ed i piloti partono dal porto di Licata con la conseguente dilatazione dei tempi di intervento. Una situazione insostenibile che sta penalizzando anche i pescatori che tra qualche giorno non potranno più andare a lavorare per l'impossibilità di uscire dal porto rifugio. I problemi di sicurezza dunque sono all'ordine del giorno. Si intervenga subito con il prefetto alla presenza di istituzioni ed operatori economici interessati al fine di sollecitare tutti quegli interventi necessari al ripristino della funzionalità del porto rifugio e del porto isola. Tre arresti sono stati eseguiti nelle ultime ore dei carabinieri di Gela, manette per Salvatore Graziano Biundo, 37 anni, noto alle forze di polizia, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di torveglianza di Caltanissetta. A seguito di una perquisizione domiciliare eseguita a tempo addietro, i militari scoprirono un quantitativo di hashish 180 grammi, non conciliabile con l'uso personale. Biundo ora è in carcere, arresti domiciliari per Giacomo Peritore, 39 anni, sorpreso la scorsa notte alla guida di un ciclomotore senza la patente di guida già revocata. Il mezzo era sprovvisto anche di polizza assicurativa. Un altro pregiudicato è stato ammanettato per evasione dagli arresti domiciliari. Si tratta di Carmelo Manuel Giorlando, 24 anni. Lo scorso dicembre era stato trovato fuori dalle mura domestiche durante un controllo. Adesso in esecuzione ad un ordine emesso dalla parte della Corte d'Appello di Catania è in carcere. Giro di vite per i B&B che esercitano illegalmente, ovvero fuori dalle regole. Sono stati i finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta, che hanno controllato 16 strutture ricettive, 13 delle quali sono risultate irregolari sia in relazione alle particolari normative vigenti nel settore che alle prescrizioni tributarie della pubblica sicurezza. In particolare sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, a 8 soggetti per violazione degli obblighi di comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza. Ed è risultato inoltre che 8 di questi esercitavano l'attività pur avendo omesso di presentare la segnalazione di certificazione di inizio attività. Infine, durante i controlli, 5 soggetti sono stati ispezionati e sanzionati anche per aver omesso il pagamento del canone speciale RAI. Le fiamme gialle del comando provinciale di Caltanissetta continuano a portare avanti un'incessante attività nell'ambito del controllo economico del territorio per stroncare in provincia il fenomeno dell'abusivismo commerciale. L'attenzione dei finanzieri nisseni si è orientata anche nei confronti di quei soggetti che conducono attività di bed and breakfast e affittacamere privi di prescritte autorizzazioni amministrative, fenomeno particolarmente dilagante negli ultimi tempi anche grazie al potente impulso fornito dai vari siti internet. Il fenomeno illecito va a turbare così il regolare andamento del mercato, danneggiando gli operatori in regola con le prescrizioni normative e drenando denaro sia agli incassi di questi ultimi che all'erario. In relazione agli incontri avvenuti per la Commissione urbanistica in merito all'approvazione del piano urbano della mobilità da parte del Consiglio Comunale ed eventuali emendamenti a modifica da proporre, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti e Gelacentro evidenziano che occorre innanzitutto estendere un plauso al metodo di concertazione che il Consiglio Comunale sta attuando nel coinvolgere le associazioni datoriali dei commercianti ed artigiani rappresentanti i centri di interesse commerciali presenti nel territorio al fine di proporre eventuali modifiche in fase antecedente all'approvazione in assise civica dell'atto programmatico. La però specificato sottolinano che gli unici incontri avuti qualche giorno fa con la Commissione urbanistica ci hanno solo permesso di prendere visione della documentazione inerenti al piano urbano della mobilità. Ad oggi infatti a nessuno dei totoscrittori della nota è mai giunta copia del materiale esplicativo sui vari studi effettuati né degli elaborati di alcun genere che hanno portato alla redazione del definitivo elaborato. In merito alle poche informazioni ricevute non è possibile esprimere pareri positivi sull'attuazione dell'atto programmatico, soprattutto in quelle zone come ad esempio il Centro Storico dove l'incidenza di tali modifiche potrebbe comportare un collasso dell'economia localizzata dell'indotto che si genera. Casa Artigiani, Comcommercio, Convetercenti e Gelacentro chiedono di essere coinvolti acquisendo tutto il materiale riguardante il PUM, così da permettere di esprimere un concreto parere di fattibilità corredato da eventuali correttivi da prevedere in fase attuativa a tutela del commercio locale. E adesso parliamo della vicenda dei liberi consorsi. Si tuona il comitato Gelensis Populus, si è fatto nulla in merito ai ricorsi per il passaggio alla città metropolitana di Catania. C'è un servizio. L'Elena Bellardita, ricorsi contro ricorsi, ricorsi storici, ma attualmente Gela ancora fa parte del libero consorzio dei comuni di Caltanissetta e Catania attualmente si allontana. Sì, Gela attualmente si trova in una situazione di stallo, nel senso che fa parte del libero consorzio di Caltanissetta e nonostante gli annunci annuali ormai della presentazione di ricorsi a provvedimenti che sono lì ad uscire, ma ricordo che nel frattempo ne sono usciti a decine di provvedimenti, non esce mai quel provvedimento che è degno di essere impugnato. Ecco, ma da parte di chi dovrebbe essere impugnato il provvedimento? Mi pare che l'amministrazione comunale, in persona del sindaco, si era preso l'impegno principe di risolvere questa vicenda. Ha nominato fior di avvocati, si è proceduto anche alla nomina di un assessore con delega specifica, per cui certamente l'attenzione sotto questo punto di vista non è mancata. Mancano i fatti, nel senso che alle nomine di fatto non è poi seguito null'altro. Ci sono stati tanti casi, il referendum nel primo episodio, poi c'è stata anche l'aggiunta che ha deliberato il passaggio di Gela a Catania, ratificato dal Consiglio Comunale, però come diciamo attualmente si muove realmente poco. Si muove il nulla, nel senso che ha gli annunci anche trionfalistici, annunci che sono stati fatti anche da parte di associazioni, però agli annunci poi di fatto non è seguito nulla. È giusto che la cittadinanza venga messa a conoscenza di come realmente le cose stanno, andare sui giornali, andare sulle televisioni e annunciare ricorsi di fide che poi non sortiscono alcun effetto con riferimento ai ricorsi. Addirittura sappiamo con assoluta certezza che nessun ricorso ad oggi è stato presentato. Penso che la città di Gela non se lo meriti. La città di Gela si merita verità, si merita chiarezza e si merita soprattutto fatti. È stato pubblicato anche online sul portale del Comune di Gela l'avviso per l'istituzione dell'albo per l'affidamento degli incarichi agli avvocati esterni all'ente. Lo ha reso noto l'assessore comunale degli affari legali Fabrizio Morello. L'atto predisposto dal servizio contezioso del settore è stato trasmesso anche all'ordine degli avvocati. L'avviso segue la delibera della giunta municipale che lo scorso mese di dicembre ha approvato il relativo regolamento su cui si è lavorato con la commissione consigliare dagli affari generali preseduta da Giuseppe Guastella. L'albo, ha spiegato l'assessore Morello, sarà suddiviso in cinque sezioni, a loro volta articolate in cinque fasce di iscrizione corrispondenti, in ordine crescente all'esperienza dei professionisti. Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di iscrizione corredata da alcuni documenti al settore comunale e affari legali entro il prossimo 18 febbraio. Maggiori dettagli sono presenti nell'avviso pubblico e nel regolamento. L'aggiornamento dell'albo avrà cadenza biennale. La terza commissione bilancio e programmazione preseduta da Salvatore Scerra e composta da Sandra Bennici, Romina Morselli, Enzo Cirignotta e Simone Morgana ha espresso parele favorevole al rendiconto di gestione del bilancio consentivo 2015. Dopo aver constatato il parere di regolarità contabile favorevole rilasciato dal responsabile finanziario dall'unità del progetto bilancio Alberto De Petro e quello del collegio di revisione dei conti, l'organismo consigliare ha espresso parere favorevole a maggioranza, subordinandolo alla predisposizione da parte dell'amministrazione comunale della nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'ente locale e le società partecipate. Si è astenuto il componente Simone Morgana, dalle verifiche non risultano gravi, irregolarità contabili e finanziarie, la timidibilità delle risultanze di gestione finanziaria e dei valori patrimoniali, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica come il patto di stabilità, il contenimento dell'indebitamento, il rispetto del piano di rientro del maggior disavanzo. Sono stati sottoposti al giudizio di una commissione regionale i 20 allievi dell'accoglienza turistica, gli altrettanti della sala e vendita e i 60 dell'enocastronomia dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio di Bartolo e il risultato è stato strabiliante. I ragazzi nelle diverse materie hanno sostenuto un esame sulla fondamentale comunicazione non verbale, sulla gestione dell'ospite, sulla preparazione di un menù completo, dall'antipasto al dolce, al servizio del vino. Un esame a 360 gradi, sostenuto dinanzi ad una folta presenza di docenti, genitori ed istituzioni. Era presente anche il sindaco Domenico Messinese. Siamo molto contenti come istituto per la possibilità di dare ai ragazzi tutti gli strumenti, abilità, competenze in grado di poterli spendere nel mondo del lavoro. Sicuramente sono ragazzi che si inseriranno nelle strutture alberghiere, nei ristoranti, suddivisi in tre gruppi. Un gruppo che consegue l'attestato di operatore per l'accoglienza turistica, un altro gruppo consegue l'attestato di operatore per sale e vendita e un altro gruppo consegue l'attestato per quanto riguarda l'operatore enocastronomico. Molti di questi ragazzi continueranno a studiare, a completare gli altri due anni per poi conseguire il titolo di tecnico di operatore di enocastronomia, tecnico di sale e vendita e tecnico dell'accoglienza turistica. Devo dire che il nostro istituto, ribadisco, costituisce il fiore all'occhiello per quanto riguarda la formazione professionale grazie appunto a questa alta specializzazione. Non dimentichiamo che raccoglie circa 650 alunni. I ragazzi inoltre hanno preparato dei video con 20 personaggi carismatici importanti scelti da loro, abbinati ad una dozzina di professionisti del settore, raccontando un fantasioso incontro con loro e spiegandone sia il profilo non verbale che le funzioni del loro lavoro in quell'occasione. Ognuno di noi stiamo portando dei personaggi storici, famosi, dei personaggi letterali, politici e anche sportivi, mostrando anche dei video. E niente, tutti emozionati, tutti felici per il termine di questo esame. Una delle allieve, inoltre nel suo racconto, ha immaginato di dover svolgere l'attività di direttore di un hotel nelle zone del centro Italia colpite dal violento terremoto. E la commozione per chi l'ha ascoltata è stata tangibile. Una piccola parte delle restituzioni del 2015 fatte dai consiglieri ed ex assessori del Movimento 5 Stelle verranno destinate ai cittadini che tramite le associazioni, ma anche in forma di libero volontariato, ogni giorno con sforzi in mani si occupano di togliere dalla strada ed assistere gli animali randaggi. La decisione arriva dal meetup di Gela e un gesto nobile, affermano, ma è anche un servizio in favore della comunità. Ogni comune dovrebbe supportare in maniera adeguata questi servizi e non addossare la completa gestione ad associazioni e volontari. Vogliamo dimostrare, conclude la nota del meetup, il nostro sostegno a chi, con tenacia e passione, si dedica al recupero degli animali nonostante le difficoltà. È solo un piccolo gesto, ma i piccoli gesti a volte servono più di mille parole, ma ai rese concrete. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì, tale 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Domani alle 9.30 si terrà la presentazione della scuola Suor Teresa Valse e delle sue attività. Si comincerà con un canto interpretato dagli annulli che metterà in risalto il momento di festa nello stile di famiglia che caratterizza la pedagogia salesiana e seguirà la visita guidata nelle aule. Sempre domani Open Day all'Istituto Tecnico Settore Tecnologico Emanuele Morselli di Via Pitagora. Ieri ed oggi sono porte aperte nei locali del liceo scientifico, linguistico e delle scienze applicate Elio Vittorini presieduto da Angela Tuccio. Sentiamo proprio il dirigente responsabile. Quest'anno il Vittorini ha voluto proporre una giornata di Open Day veramente originale. Abbiamo immaginato un viaggio nel tempo con i personaggi più importanti, personaggi che hanno definito la nostra storia, la nostra cultura e non solo la nostra, anche quella mondiale. Per cui i ragazzi saranno invitati a fare questo viaggio e incontreranno personaggi quali Galileo, Dante, Keplero, Leonardo da Vinci, Newton. Personaggi, come dicevo prima, che hanno davvero formato le nostre menti. Ciò ha dimostrazione del fatto che gli studenti del Vittorini non conservano i contenuti in un monto una volta imparati e di cui poi non ne diverranno padroni. I ragazzi del Vittorini, una volta presi i contenuti, li faranno propri e dimostreranno così le loro competenze. Le famiglie residenti nel Comune di Gela possono presentare istanza per l'ottenimento del sostegno per l'inclusione attiva. Il cosiddetto SIA, la misura di contrasto alla povertà, prevede un sussidio economico ai nuclei familiari economicamente svantaggiati, subordinato alla decisione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Possono presentare istanze le famiglie economicamente svantaggiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata con un'isee inferiore o uguale a 3.000 euro. I cittadini interessati, in possesso dei requisiti richiesti e che non abbiano già inoltrato l'istanza, potranno continuare a presentare le domande direttamente al protocollo generale del Comune di Gela. Per scaricare l'avviso o il modello di distanza, è possibile consultare il sito del Comune di Gela oppure ci si può rivolgere all'Ufficio di Segretariato Sociale di Viale Mediterraneo, aperto al pubblico da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Il modello di domanda è inoltre scaricabile dal portale dell'Inps e dal sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. E' stato l'emozionante suono del silenzio d'ordinanza ad accompagnare la cerimonia commemorativa che si è svolta a San Cataldo in occasione della giornata mondiale delle migranti e del rifugiato. Emozionante come la lettura della preghiera di una rappresentanza di 12 migranti minorenni dei 60 ospiti dell'IPAB canonico pagano. Il terzo anno consecutivo per una cerimonia a cui hanno partecipato tra gli altri, oltre al sindaco Modaffari e all'Aggiunta, anche l'arciprete Biagio Biancheri, che ha rievocato le parole di Papa Francesco dedicate soprattutto ai migranti e rifugiati minorenni. L'unica patria è quella in cui vivi. Sono state invece le parole del diacono del patriarcato ecumenico di Costantinopoli, Michele Santagati, prima dell'omaggio floreale degli alunni delle scuole, alle tombe dei tre migranti, vittime del naufragio nel mar Mediterraneo. La nostra amministrazione comunale è molto sensibile a questo tema dell'accoglienza e ha voluto per il terzo anno consecutivo dedicare questa giornata a ricordare i migranti che sfuggono nella loro terra per cercare una migliore condizione di vita in altri popoli, in altre nazioni. La nostra collettività all'interno del proprio cimitero ha accolto tre migranti che sono deceduti nelle tragedie del mare. La prima che è avvenuta il 3 di ottobre del 2013 a Lampedusa, quando perirono 368 migranti, abbiamo un giovane migrante che inizialmente era soltanto indicato con il numero 241, ma la città di San Cataldo, che vuole viceversa ricordarlo, non come numero, ma con nome proprio, ha voluto dare il nome di Ganet due anni fa. Poi nel 2015 abbiamo accolto altri due migranti che sono periti nel 3-4 maggio del 2015 e sono una giovane donna di nome Messe e questo ne siamo certi poiché una sua connazionale indicato in nominativo è l'età, 20 anni, e un altro giovane, l'età presunta di circa 25 anni, che abbiamo voluto indicare col nome di Karim. La nostra collettività è molto accogliente, tant'è vero che oggi abbiamo chiamato anche i ragazzi minori non accompagnati che sono in una struttura qui a San Cataldo, abbiamo voluto anche invitare le scuole e le istituzioni allo scopo di far sì che questo momento sia un momento di ricordo, contestualmente sia un momento per cercare di conoscere le vere situazioni che generano questi flussi migratori. Ciascun cittadino è cittadino del mondo e ha diritto di vivere una vita dignitosa in ciascuna parte del mondo stesso. Noi siamo qua proprio a rappresentare questa esigenza e siamo qua per ricordare che chi sfugge alle proprie terre lo fa perché ne ha effettivamente necessità e di bisogno. Continuano gli appuntamenti inseriti nella 83esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 22 gennaio alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli Roviano si terrà il concerto lirico del trio Giovanna Nuara, soprano del tenore Giuseppe Infantino e Salvatore Gaio al pianoforte. Quarto Memorial di Calcio dedicato a Pino Morinello si terrà lunedì 23 gennaio alle 17.30 al Campo Vincenzo Presti di Gela. L'iniziativa è patrocinata dal Comune in collaborazione con l'Associazione Santa Lucia Soccorso e con il gruppo Vecchie Glorie. L'ingresso sarà gratuito. La pagina del cinema, l'antitodo di Macchitella, Gela, oggi alle 19.30 e alle 21.30 sarà proiettato il film Babbo Bastardo 2 e domani al Teatro Comunale Eschilo di Gela Enrico Guarneri porterà in scena l'Avaro di Molière con la regia di Antonello Capodici. Appuntamento alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per quelli del turno A. i biglietti hanno un costo di 12 euro. Per informazioni il bottichino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 oppure telefonate allo 0933 91 118 92 oppure 345 58 80 580. Con questo è davvero tutto, grazie per l'attenzione e vi rimandiamo alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie per la visione!